Camilla, duchessa di Cornovaglia ha ricevuto un nuovo titolo dalla regina per il 2022, e lo stesso premio deve ancora essere conferito alla duchessa di Cambridge e alla contessa di Wessex. Ecco perché il nuovo titolo di Camilla è così unico.La regina assegna annualmente una serie di titoli ai membri del pubblico nell'elenco degli onori di Capodanno. E la regina ha reso un omaggio speciale a sua nuora. Camilla, duchessa di Cornovaglia, con un nuovo titolo per il 2022. Express.co. UK ha parlato con il dottor Bob Morris, senior honorary research associate presso la Constitution Unit, University College Londra, UCL, sul nuovo titolo reale della duchessa di Cornovaglia dalla regina.Qual è il nuovo titolo reale di Camilla? La regina ha nominato Camilla una royal lady del più nobile ordine della giarrettiera, che è l'ordine cavalleresco più prestigioso della nazione. Camilla è stata insignita dell'incarico alla luce del suo contributo alla monarchia. Da quando è entrata a far parte della famiglia reale nel 2005 in occasione del suo matrimonio con il principe Carlo, la duchessa di Cornovaglia ha sostenuto una serie di cause e di beneficenza.La duchessa è stata erogiata per il suo lavoro a sostegno delle vittime di violenza domestica, oltre che per il suo patrocinio per il benessere degli animali e le associazioni di beneficenza per l'alfabetizzazione. Altri cavalieri reali compagni del nobilissimo ordine della giarrettiera includono la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo. Anche il nipote della regina e futuro re, il principe William, è un membro, così come molti dei cugini della regina. Anche il duca di Kent, il duca di Closter e la principessa Alexandra sono membri del prestigioso ordine. Perché il nuovo titolo di Camilla è così unico? Durante i regni dei monarchi precedenti. Molte donne reali sono state nominate nell'ordine più nobile della giarrettiera. Il dottor Morris ha spiegato, la duchessa non è la prima donna ad essere nominata alla giarrettiera. Sembra che sia stata la regina Alexandra nel 1901. Successivamente, la regina Maria e la regina Elisabetta furono nominate in seguito all'adesione dei loro mariti rispettivamente nel 1910 e nel 1936.